Non è problema l'acqua, come la puoi reintegrare? Sicuramente, facendo un disastro in dimensione ciclofico. Com'è? Facendo un enorme disastro, perché per reintegrare di nuovo l'acqua nella Greta e trasformarla di nuovo in questo, è necessario un certo processo, perché la Greta è strana, per quanto ama l'acqua non ama l'acqua. C'è una maniera di genere? Eh sì, bisogna incontrollare un certo punto. L'avete ripiato un pezzetto piccolo, perché vi avete ripiato colare sul tavolo? Stai a ritirizzarsi il gioco. Avete ripiato un pezzetto piccolo. Allora, quando lo sapevo, mettetelo in funzione, c'è anche un conto e battetevelo un po'. Voto da renderlo tutto. Questa è un po' di cibo. Sì, non è troppo. Allora, non lo farei troppo. Non lo farei troppo. Non lo farei troppo. Non lo farei troppo. Dove essere... Se proprio potete usare una sola volta, non li costringete a legare la situazione. Questo ne ho fatto un po' da parte, questo ne ho fatto un po' più bene, fatele un'altra. Allora. Bye bye. Ragazzi, mettetele da parte, fatele un'altra. Mi assicuro che per quanto possa essere semplice o preventivo del metodo, è possibile ottenere veramente delle costrette. Poco tempo fa, come ho ricevuto una commissione. Se da questo non ti dai il primo, dipende dai quartieri che faccia dal centro. Preferibile da un centro. No, ti direi così tu fai un fattore solo un valore. Allora, la parola ti è venuta? Non l'ho fatto. Non è un fatto, solo un capriccio di tempo. Per quanto riguarda la grina, dovete comprendere questo qua. Gli attrezzi che normalmente si usano sono le varianti delle mani. Dove le mani si usano? Gli attrezzi che non arrivano perché troppo grosse o perché troppo piccole e arrivano gli attrezzi. Quindi, potete capire che voi potete cominciare a usare gli attrezzi appena avete avuto il controllo pieno delle vostre mani. Suggerimento di fare un sasciotto della misura in cui non fa più vedere senza il video che ci si chiede. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.